Attenzione prego, tutti i colleghi sono legati le casse all'intrezzo dell'Iber, per salutare insieme e con grande orgoglio il nostro operato, dove fino all'unico secondo abbiamo lavorato con professionalità, dignità, sorriso ed educazione, senza mai stravolgere l'andamento dell'evento e orgogliosi di non essere stati motivo di futura e quindi per l'ultima volta ed accomunati da un unico dolore, comunichiamo che sono le ore 22, il Bernardo Capur chiude e chiuderà qui sempre, ringraziamo la gentile Tiettera che ci ha accompagnato in questi anni, ai colleghi rivolgiamo un solo pensiero, noi tra noi non chiuderemo mai!